Ciao a tutti, eccomi qua. Siamo arrivati al 21 di settembre, alle mie spalle c'è l'auditorium Regina Pacis e il contesto effettivamente è meraviglioso, c'è il mare in lontananza alle mie spalle, c'è quella piccola striscia blu che è il bellissimo mare della Puglia e io sono emozionata ma anche serena. La gioia di poter testimoniare attraverso le mie parole, attraverso la mia esperienza, questo contatto con la disabilità, questo contatto con l'intimità, l'affettività è qualcosa che rientra fra la mia missione e quindi direi che mi accingo ad andare in sala. Ci saranno 70 persone, almeno le iscrizioni, poi ci sarà qualcuno che probabilmente verrà senza che si sia registrato e anche se soltanto una persona su 70 potrà tornare a casa con una riflessione, direi che è già un ottimo risultato. Un bacio a tutti e a presto, ciao!